Preziosa iniziativa di orientamento, quella del liceo scientifico Carlo Iucci, ideata dalla preside Stefania Santarelli, è rivolta agli studenti di terza media e alle rispettive famiglie. Al fine di agevolare la scelta degli alunni delle classi terze e della scuola secondaria di primo grado, l'iniziativa prevede numerose attività rivolte ai ragazzi. Il nuovo passo è quello dello Iucci Open Day, ha dichiarato la preside Stefania Santarelli, apertura, guida ed illustrazione di tutte le attività del liceo. L'Open Day è uno dei progetti di orientamento scolastico rivolto agli studenti delle scuole medie. Oltre alle visite nelle varie scuole medie, l'Open Day ha proprio lo scopo di far conoscere l'istituto e le attività che si svolgono all'interno dell'istituto. Quindi sono previsti apertura della scuola con dei laboratori, laboratori di matematica, fisica, scienze. Le prossime giornate dedicate all'Open Day saranno le seguenti 18 gennaio, martedì 24 gennaio, martedì 31 gennaio e venerdì 3 febbraio. L'orario sarà 15.30 a 18.30.